Il bilancio di Freddy Radova, dove c'è la fine di questo giro? Beh, innanzitutto peccato per quest'ultima partita, volevamo vincerla, sapevamo che sono la nostra portata, anche se sono i due anni più vecchi, però diciamo che la differenza tra noi l'oro non è molto, abbiamo di nuovo fatto qualche errore di troppo nelle conclusioni, però l'importante era giocare e ce ne siamo giocati. Per quanto riguarda l'intero torneo penso che sicuramente è stato molto prezioso per questi ragazzi per la loro esperienza, a loro serve questo tipo di partite perché vedono qual è l'intensità della palla a mano europea, che capiscono come bisogna vinarsi per fare bella figura, assolutamente ci servono partite del genere. Ora proveremo a continuare con questo progetto avanti, con questi ragazzi qua, ma non solo, anche con quelli più giovani e speriamo di arrivare tra qualche anno veramente a giocare per una generazione e la stessa generazione e di essere molto competitivi.